Un semaforo che controlla la viabilità Taurianova impanne ormai da più di 15 giorni, con possibili pericoli per gli automobilisti e i pedoni. Un crocevia importante tra la via Francesco Sofia Alessio, via Cappuccini e via 20 Settembre. Come tante problematiche aperte, anche questa resta in evasa. Taurianova in questo momento ha un'amministrazione straordinaria, perché gestita da una triade commissariale dopo lo scioglimento del Consiglio per infiltrazioni mafiose. Tanti aspetti sono stati affrontati, alcuni risolti dai commissari, come il problema dei rifiuti con l'introduzione della raccolta differenziata, ma ancora molte restano giacenti. La viabilità è una di queste, perché ai semafori che non funzionano si aggiunge un manto stradale che in parti consistenti della città è devastato. Alcune vie hanno perso l'aspetto di strade e hanno assunto quello di sterrato da campagna. Alcune vie sembrano aver subito un bombardamento visto le condizioni in cui versano, distrutte. Un campo di patate ha una sua maggiore linearità e compattezza. La circonvallazione di Taurianova, centro nevralgico per il traffico urbano e non solo, è diventata per gli automobilisti un vero incubo, uno slalomo continuo per evitare i crateri presenti lungo il selciato. Una circonvallazione che in passato è stata scenario di spaventosi incidenti, anche mortali. Insomma, una situazione è diventata ancora più pesante dopo l'avvio per il cablaggio della banda larga che sta interessando la cittadina pianigiana e che ha portato più distruzione alle strade già fatiscenti. Una situazione di grande disagio per i cittadini di Taurianova e non solo. Tanto che qualcuno di loro ha denunciato il tutto alla procura della Repubblica di Palmi. Riusciamo a capire che i problemi per i comuni sono tanti. Le risorse economiche per gli enti non sono più quelle di una volta. I trasferimenti dello Stato agli enti locali calano di un anno in anno, diminuiscono sempre di più, ma intervenire per colmare questi malesseri strutturali diventa prioritario, soprattutto quando sono causa di gravi incidenti. Le risorse si possono recuperare. Basta la volontà di chi amministra, la civiltà di un luogo passa anche dalle condizioni delle strade, dall'illuminazione di queste e soprattutto da una viabilità che in generale in questo momento ci ricorda quella di una cittadina collocata più nella periferia del Terzo Mondo che non nel centro del Mediterraneo e dell'Europa.